Allora, Mike, stai mettendo dell'erba cipollidina? Su che piatto questo? Su un risotto, straccetti di cavallo affumicati e zafferano. Questo è un piatto ideato da te o un piatto tipico? No, no, questo è un piatto ideato da noi. Perfetto. Là? Sull'altra? Là, mentre abbiamo semplicemente delle bietoline coltivate nell'orto di mio padre, saltate con aglio, olio e peperoncino. E poi invece questo profumo di aceto balsamico che c'è qui alla mia destra? Sì, l'abbiamo abbinato a degli straccetti di vitello sul letto di rumpola pomodorini di escaglie di grana. Perfetto, proprio sento io dei profumi perché è ancora caldo, sta per essere servito. Mi sembra che avevi passato un po' nella farina? Sì, vengono passati leggermente nella farina, in modo tale che comunque riusciamo a addensare la salsa. Perfetto. E qua stai andando a definire il piatto. Sì, il nostro risotto. Io sento un profumo strabiliante. Sì, perché in pratica abbiamo lo zafferano che di suo è già profumato e poi abbiamo la fumicatura a degli straccetti di cavallo. Perfetto. Il piatto è completo? Sì. Eccolo qua. Grazie. Prego. Grazie.